Sì, la scuola di mia figlia l'hanno chiusa pure perché c'era un operatore tutto affettato, hanno dovuto chiudere perché praticamente c'era il covid e sono tutti affettati e ora stanno infettando tutta la scuola e poi con questi assemblamenti non si sta capendo più niente. Scusate, ma se uno per domani non li manda, poi lì domani si ci manda a scuola perché domani fanno la santificazione, io credo che non ne fanno, secondo me a vista essere tutto l'istituto la dovrebbero chiudere, facessimo la santificazione e poi manderemmo i figli a scuola, cioè io domani non lo mando, poi dopo domani non lo mando a scuola, poi che ci giustifico una cosa, per motivi di famiglia non può essere mai, ci metto per motivi che non avete un santificato in scuola. Scusatemi, non l'hanno infettata allora la scuola, quella dove hanno trovato i bambini nella prima, nelle seconda E, non l'hanno infettata? Noi giovedì non mandano nessuno a scuola, forse non avete capito, devono purificare la scuola, parliamoci così, sennò io non porto i miei figli a scuola, ma qua stiamo scherzando, qua si infettano i nostri figli, io non porterò i miei figli a scuola finché non sarà santificata la scuola, punto, fine, non voglio sapere più niente, voi fate quello che volete. Usate mesi e... Grazie Grazie Grazie